Per ascoltare con più gusto la musica occorre imparare a sentirla. Anche se non sei un musicista e non conosci la musica, puoi avere più chiaro il senso del ritmo, della melodia e dell'armonia. Puoi usare meglio orecchio e pensiero. Dividere il tempo in modo naturale. Pensa al battito del cuore. Puoi trovare la tua nota esclusiva e personale. È sempre stata lì ad aspettarti. Puoi imparare a riconoscere le scale e modelli di melodie di tante parti del mondo senza saper suonare niente. Riconoscere accordi e climi emotivi. Gustare ancora di più la musica che ami. Mettiti comodo anche se stai su una panchina o in treno, in metro, in una sala d'attesa. Concentrati, escludi il fuori e fai silenzio dentro di te. Trova! Il tuo tempo perso può diventare tempo utile per godere più a fondo la bellezza della musica. Seguici sul sito di Slow Music e sul sito del CPM Music Institute che cura il progetto. Slow Music lavora per chi sente che la musica è bellezza e qualità da proteggere. Diventa uno di noi. Segui i ritmi e le esperienze melodiche progressive che Slow Music ti mette a disposizione. Seguici sui nostri social.